buongiorno buongiorno buon giovedì buon giovedì 10 dicembre benvenuti benvenuti a mattino insieme e dunque mancano esattamente 15 giorni al giorno di natale scusate il gioco di parole un natale che chiaramente sarà molto molto particolare e da oggi come vedete nel nostro studio ha fatto capolino anche l'albero di natale che quindi ci aglieterà e ci porterà un po' di senso proprio del natale un po' di colore ringraziamo Alessia Segafredo che appunto ha fatto quest'albero di natale che c'è qui nel nostro studio per la cronaca purtroppo dobbiamo dire che i numeri del covid sicuramente non migliorano l'avete già visto abbiamo ospite in studio Diego Andreatta direttore di Vita Trentina buongiorno Diego buongiorno agli ascoltatori buongiorno Marco l'apertura del settimanale diocesano è dedicata a questo avvento inedito è proprio questo il titolo che avete scelto questa mattina per il numero appunto che è inedicola da questo giovedì mattina eh sì perché questo è un avvento veramente particolarissimo sì mentre ci avviciniamo al natale ci accorgiamo sempre di più di vivere qualcosa di inaspettato qualcosa appunto che finora non avevamo provato anche il sentimento di gioiosa attesa che è tipico del natale rischia quest'anno di lasciare il posto ad ulteriori preoccupazioni e quindi pensiamo che il compito del settimanale sia quello di ridare speranza di richiamare i valori spirituali di questa che non è soltanto una festa ma è il richiamo all'incarnazione all'evento che ha spaccato la storia che ha cambiato il mondo e anche le nostre vite quindi come titolo all'editoriale è un tempo di riempire di presenza perché poi alla fine la preparazione è fatta anche di un cambio di mentalità di una richiamarsi l'importanza dell'altro del fratello e questo è il compito che la carità diocesana ci ricorda in vista dell'appuntamento per le parrocchie trentine importante della giornata della carità domenica 13 dicembre che sarà presentata anche domani a Trento in una conferenza stampa e c'è proprio questo editoriale che è firmato da Alessandro Martinelli che appunto parla proprio di questa giornata del 13 dicembre che cade in un anno chiaramente del tutto particolare ecco l'invito è saper distinguere tra le attività sociali caritative e il fare la carità invece l'essere uomini di relazione, uomini di servizio, uomini che nella loro genuinità e nel loro impegno si fanno fratelli ecco per usare l'espressione cara Papa Francesco agli altri ecco questo avvento inedito però nelle pagine di Vita Trentina rimbalza anche con un'intervista agli esperti del consultorio UCPEM ai quali in particolare la neopresidente Annalisa Pasini ci spiegano come dal loro osservatorio è cambiato anche il benessere relazionale è stato condizionato da questo lockdown, da questo distanziamento fisico e anche sociale si parla poi in taglio alto sia in prima pagina e poi ovviamente nelle pagine interne del servizio civile con l'evoluzione che ha avuto nel corso degli anni proprio il servizio civile ricordiamo l'obiezione di coscienza, il servizio militare e poi adesso un vero e proprio servizio alla comunità Sì, è una seconda apertura di fatto, l'occasione ci viene data dalla giornata internazionale che è martedì prossimo il 15 dicembre, abbiamo fatto il punto sul servizio civile in Trentino a partire però dalle testimonianze dei pionieri che fecero questa scelta ancora 40 anni fa abbiamo rilevato come alla base ci possa e ci debba essere però lo stesso impegno quest'anno sono 200 i ragazzi che hanno aderito alla proposta di dedicare alcuni mesi della loro vita agli altri per una propria maturazione anche personale, una transizione all'età adulta ed è significativa che queste due belle pagine vedete il responsabile direttore dell'ufficio provinciale Giampiero Girardi che abbiamo intervistato queste due belle pagine coordinate da Marco Mazzurana sono state scritte da due giovani che stanno facendo direttamente questa esperienza li voglio nominare Nicola Martinelli di Mori e Marianna Malpaga di Levico che sono con noi ormai da qualche mese e ci resteranno 12 mesi per vivere appunto come artigiani della comunicazione delle giornate che non sono tanto di lavoro, di avviamento al lavoro quanto di servizi, infatti sono impegnati appunto nella divulgazione giornalistica con i vari mezzi ma anche in servizi di prossimità, in servizi materiali come vuole appunto la finalità di queste giornate che poi molti non lo sanno però sono anche dense di formazione proprio perché il fare non prevalga sulla riflessione sul proprio essere quindi questi momenti formativi che nel caso del nostro progetto sono curati oltre che dall'ufficio provinciale e anche da noi Trento l'associazione degli oratori che coordina i ragazzi del servizio civile nel nostro caso sono giornate importanti e anche molto arricchenti a detta di Nicola e di Marianna Diego tu come direttore che tipo di lezioni, consigli impartisci a questi due giovani? Ma diciamo che abbiamo dei momenti di formazione tecnica in cui spieghiamo come si fa un'intervista, come si trascrive un pezzo eccetera però probabilmente selezioni più significative nel bene e non male sono quelle che nascono dal contatto stretto, dalla vicinanza dal vedere la passione con cui si fanno le cose e spero anche una certa professionalità e al contrario probabilmente siamo dei cattivi maestri quando diamo impressione di approssimazione o di superficialità anche di una certa pigrizia ecco quindi è una responsabilità quella di accompagnare questi ragazzi speriamo di esserne all'altezza sicuramente al termine di questo primo anno faremo un bilancio su questo progetto per ritararlo al meglio penso però che tante famiglie, anche tanti giovani leggendo queste due pagine possano essere anche invogliati ad avvicinare questa esperienza quest'anno a causa della pandemia ha registrato un certo calo di adesioni ma che speriamo possa tornare ai numeri piuttosto elevati di 400-500 giovani Vi occupate su Vita Trentina anche del progetto Sveglia del Mattino di che cosa si tratta? Ma è un progetto che è stato avviato in particolare a Povo e si traduce in una attenzione appunto agli anziani che vivono in una condizione di potenziale insomma solitudine e attraverso questa modalità appunto di una chiamata di un rapporto telefonico c'è la possibilità di tenere una compagnia telefonica a distanza che però dalle prime esperienze si rivela molto preziosa ecco c'è un servizio in cui spieghiamo anche i dettagli e la proposta per chi avesse bisogno anche di un supporto costante telefonico questa iniziativa è molto valida e può essere anche replicata credo Anche questa settimana proprio vedendo che sta per arrivare insomma a Natale proponete queste storie di rinascita già appunto la scorsa settimana c'era quella bellissima storia ce n'è una anche questa settimana la storia di Ferruccio se non sbaglio Esatto, Ferruccio in verità è un nome di fantasia perché questa storia molto molto forte anche di una malattia provante con qualche lunga settimana di ricovero in isolamento era una storia talmente così coinvolgente che la persona che ce l'ha affidata e a cui noi l'abbiamo chiesto ha proprio scelto di poter mantenere l'anonimato e diamo atto insomma di questa richiesta l'abbiamo naturalmente rispettata anche se questo forse può togliere un po' di viridicità come direttore vi posso confermare che è una storia assolutamente vera che dimostra come anche nel momento dell'apparente disperazione quando sembra di essere un po' sulla china dell'irreversibilità in verità si possono trovare dentro se stessi delle risorse, delle energie spirituali anche per chi crede poi nell'affidamento a Dio che consentono di poi superare anche momenti di grande difficoltà io ringrazio questo anonimo ferruccio per averci consegnato queste sue riflessioni vi invito a leggerle ecco di che malattia si parla in particolare? perché si potrebbe pensare al covid ti ringrazio, non è una storia di covid ne avremo una la prossima settimana questa è una storia di una rara infezione molto improvvisa di tipo batterico di quelle che ti cambiano la vita te la rivoltano come un calzino dice il nostro ferruccio in pochi giorni e obbligano i medici ad una controffensiva che talvolta non dà subito i risultati sperati così è stato invece da leggere, ripeto, questa testimonianza e grazie ancora a ferruccio molto molto toccante e purtroppo anche questa settimana dovete dare conto di alcuni preti che chiaramente sono scomparsi ne parla molto spesso anche il Vescovo Lauro la domenica di questi preti che hanno fatto la storia della comunità che sono stati dei fari per la comunità e purtroppo a causa spesso del covid ci stanno lasciando sì, gli ultimi due sono Don Adolfo Orlandi noto anche per la sua passione per la bicicletta e poi il mio primo parroco Don Alfredo Bertolini che è del Santissimo che ha fondato questa comunità nel cuore della città che è morto proprio poche ore dopo aver compiuto i cento anni e queste due figure vengono poi ricordate da Don Ferruccio Furlan che è il vicario per il clero in un primo bilancio insomma anche numerico purtroppo è una generazione di sacerdoti che se ne va si ricorda Don Ferruccio che invita a saper guardare come fa anche il Vescovo alle loro storie per ricavarne appunto una testimonianza cristiana e anche un invito a nuove vocazioni ecco qui il nostro Vescovo abbiamo ripreso la sua omelia per le immagini si riferiscono proprio alla festa dell'Immacolata e la Diocesi adesso si impegna in un progetto di ascolto dal titolo Vulnerabili una trasmissione video che può essere seguita anche in streaming che comincia domani sera venerdì 11 dicembre che ogni mese vedrà le comunità riunite per una riflessione proprio su questi temi della fragilità che poi sono i temi della lettera che a San Vigilio Monsignor Tisi ci ha consegnato e che si è rivelata purtroppo davvero profonda e apportatrice insomma di riflessioni durature Questa settimana c'è anche l'inserto parole dal carcere Sì siamo molto contenti di aver potuto garantire questo appuntamento anche in quest'anno di pandemia perché questo progetto non solo dentro che è coordinato da Pier Giorgio Bortolotti nasce da un'attività laboratoriale che viene fatta in carcere di giornalismo di piccola redazione purtroppo questo ha dovuto dovuto interrompersi però siamo riusciti a recuperare dei materiali dei detenuti attraverso un'iniziativa a distanza che vede dialogare gli universitari alcuni universitari trentini con un gruppo di detenuti grazie al cappellano del carcere Don Mauro Angeli quindi questo questo confronto sul tema della cura che cosa vuol dire prendersi cura in carcere fuori dal carcere offriamo un contributo molto originale credo poi abbiamo un'altra esperienza molto interessante di volontariato di compenetrazione tra società e casa circondariale e poi abbiamo l'editoriale appunto di Pier Giorgio Bortolotti che si dice c'è questo paese diviso in tre colori però c'è un colore il grigio che nessuno sembra voler vedere ed è proprio quello del lockdown permanente all'interno del carcere prima di chiudere Diego ho dimenticato ho tralasciato qualcosa questa mattina sfogliando Vita Trentina ma dovrei dirti di no perché le cose che tu cogli sono sempre fra le più importanti ma invece ti devo dire di sì perché mi auguro che i nostri lettori trovino nelle altre pagine quello che magari a loro interessa e ci sono tanti servizi le tradizionali rubriche magari più di quello che noi abbiamo detto in questi minuti di cui ti ringrazio ci sono ovviamente poi tutti gli approfondimenti anche a quello che noi abbiamo raccontato in pochi secondi qui in trasmissione io ringrazio molto Diego Andreatta direttore di Vita Trentina che ci ha guidati come tutti i giovedì in trasmissione che ci ha guidato in trasmissione